Edizione serale del nostro telegiornale, un saluto ai nostri ascoltatori, bentrovati a questo appuntamento con l'informazione. Dedichiamo la nostra apertura al taglio del nastro avvenuto stamattina, il nuovo centro di raccolta del verde che servirà a alcuni comuni della Versilia. Maggiori particolari e dettagli nel servizio di Federico Conti. Taglio del nastro sotto una pioggia battente per il nuovo centro di raccolta del verde di Ersu in via Ponte Nuovo. Dal 25 aprile i cittadini di Pietrasanta, Massarosa, Forte dei Marmi, Seravezze e Stazzema potranno conferire gli sfalci dell'erba e i resti delle potature direttamente al nuovo impianto realizzato dalla società intercomunale dei rifiuti per circa 700 mila euro. Per i Pietrasantini però, orfani della raccolta porta a porta del verde, è una delle due alternative rimaste per smaltire il verde. Infatti, chi non usufruisce della compostiera domestica sarà obbligato dal lunedì a portare i sacchi di verde al centro. L'impianto sarà aperto sette giorni su sette, stiamo pensando anche un'apertura domenicale, dalle sette la mattina alle diciannove la sera. Si accede tramite la tessera sanitaria, c'è un sistema tutto informatizzato che permette a ogni cittadino di essere riconosciuto e di essere associato al proprio comune di residenza. Il servizio è naturalmente completamente gratuito, già i cittadini pagano la tari, quindi è più che sufficiente. Abbiamo inserito solo per il comune di Pietrasanta e per il comune di Massarosa un limite di conferimento molto alto, di 750 kg per mese. A Pietrasanta non a tutti piace la rivoluzione del verde. Il PD ha dato il via ad una raccolta firme per i disagi di chi è costretto a portare i sacchi del verde all'impianto oppure a pagare il ritiro a domicilio su richiesta. Per il sindaco Massimo Mallegni il taglio del verde porta a porta consente di far risparmiare tutto in bolletta e di prevenire il fenomeno dei giardinieri abusivi. Meno tasse per tutti, ovviamente. Pulizia del territorio, lotta al lavoro nero. È un impianto importante qui nel territorio comunale di Pietrasanta pagato dalla nostra azienda e dai comuni che compongono l'azienda, un investimento di oltre 700 mila euro. che purtroppo, passatemi questa digressione, dovrà essere conferito nella gestione unitaria. Ieri la nomina dei commissari di Forza Italia da parte del commissario provinciale Marchetti. Oggi le prime polemiche all'interno del partito forzista. Vediamo il servizio. In serata il coordinamento comunale di Forza Italia di Viereggio, Camaiore, Forte de Marmi e Lucca prende posizione sulle nomine fatte ieri dal commissario provinciale Marchetti. Questi commissariamenti comunali, si legge nel documento, sono illegittimi in quanto decisi in assoluta intimità con un atto di arroganza. È evidente, si legge ancora, che i vertici provinciali di Forza Italia hanno scambiato un partito politico nato a difesa della libertà in un territorio da occupare militarmente. Noi, conclude il documento, rigettiamo quelle nomine e continueremo a svolgere il nostro lavoro forti di un mandato legittimo, ricevuto alla luce del sole ed altrettanto forti dello spirito e della conoscenza dei fondamenti statutari del partito Forza Italia. Il mio è un commissariamento, è una nomina che viene dall'alto e di questo ringrazio l'onorevole Deborah Bergamini, Maurizio Marchetti e Massimo Mallegni e nonché anche Ato Spastecchi che è nel coordinamento regionale. inizia un periodo in attesa del congresso, quindi un periodo che dovrebbe, su per giù, coprire l'arco di un anno. In questo anno Forza Italia si deve mostrare presente, deve far sentire la propria voce, deve essere per strada, deve essere vicino alla gente, si deve far sentire con comunicati stampa, interviste, farsi vedere concretamente e parlare alla gente, far sapere che cosa Forza Italia pensa nelle stanze, ma portandola per strada. Forza Italia è all'opposizione a Via Reggio, ci resta con un'opposizione costruttiva, ma assolutamente cercando e facendo in modo che il centrodestra possa vincere e assolutamente mandando a casa questa amministrazione di Giorgio Del Ghingaro. Accoglieremo a porte aperte tutti coloro che vorranno collaborare con noi, porte aperte con chi ha lavorato finora in Forza Italia, chi ha portato in alto il nome di Forza Italia, che ora ha bisogno di nuova credibilità e soprattutto di nuova linfa e di freschezza. Siamo certi che Forza Italia possa continuare sicuramente ad essere una forza, un motore politico per questa città che tanto ancora deve dare. Pensiamo subito ai giovani per rinnovare il gruppo dei giovani ai quali apriamo e spalanchiamo le nostre porte, ma soprattutto un'attenzione particolare a tutti quei cittadini, a quegli anziani che hanno bisogno di noi, di un centrodestra forte, credibile e fresco. Alessandro Santini, nuovo commissario di Forza Italia, ma consigliere comunale, ha scritto alla Corte dei Conti sull'incarico conferito dal Festival Puccini allo studio Sgro. La Fondazione ha infatti assegnato l'incarico di consulenza e sicurezza per i prossimi due anni allo studio del professionista via Regino che sostenne la campagna elettorale del sindaco del Ghingoro. Circa 9 mila euro in più rispetto al 2015. Questo nonostante la grave e conclamata condizione di precarietà, scrive Santini, precarietà economica, in cui versa l'ente lirico. Santini ha presentato un'interrogazione al sindaco del Ghingoro, all'assessore Martina e invia appunto anche alla procura regionale della Corte dei Conti il suo documento. Andiamo ora invece a Camaiore perché con circa 160 mila euro di interventi da parte dell'ente pubblico sarà possibile ripristinare il decoro in alcuni appartamenti popolari che possono essere, una volta terminati i lavori, consegnate alle persone che ne hanno bisogno. Vediamo. Accordo raggiunto tra il Comune di Camaiore e Erpelucca per la ristrutturazione di alloggi di edilizia popolare. Gli interventi interesseranno 10 appartamenti, 7 nel capoluogo e 3 al Lido di Camaiore. Si tratta di un importante provvedimento che giunge in un momento in cui l'emergenza abitativa ha raggiunto anche nel territorio comunale camaiorese livelli preoccupanti. L'amministrazione cittadina ha investito una cifra superiore a 160 mila euro per i lavori che saranno eseguiti dall'ente gestore. C'è soddisfazione personale dell'assessore al sociale Carrara per il raggiungimento di un obiettivo che permetterà di assegnare in breve tempo tutti gli alloggi di risulta presenti sul territorio e non ancora assegnati perché in gravi condizioni strutturali. Nel dare risposta concreta ad altre 10 famiglie l'amministrazione del Dotto sollecita tutti quei cittadini che in possesso di seconde case possono contribuire a risolvere l'emergenza abitativa mettendo sul mercato degli affitti le loro proprietà a prezzi contenuti. Parole di apprezzamento arrivano dal presidente di ERP Lucca Franceschini che sottolinea come camaiore sia nella stretta cerchia dei comuni virtuosi che hanno fatto fronte agli impegni con puntualità a sostegno delle politiche nel campo degli alloggi popolari in un momento di grave emergenza abitativa. E lunedì 25 aprile festa della liberazione anche in tutta la Versilia tempo permettendo naturalmente si celebrerà questo importante avvenimento che ha consegnato libere elezioni nel nostro paese e soprattutto la libertà a un popolo. Vediamo. Lunedì 25 aprile è la festa della liberazione dal nazifascismo ricorrenza che viene festeggiata ogni anno in tutto il paese con eventi, concerti e manifestazioni per ricordare un passato orribile terminato 71 anni fa. Il 25 aprile segna la vittoria della resistenza italiana sui nazifascisti diventando la festa della liberazione dalla dittatura che pose le basi per l'inizio di uno stato democratico. Ecco perché è importante festeggiare la libertà e la democrazia conquistata in quella giornata. Nel comune di Camaiore domenica 24 e lunedì 25 si celebra a Marignana il 71esimo anniversario alla presenza del sottosegretario Luca Lotti che alle 20 e 30 di domenica interverrà a Castagnolo per la partenza del corteo che prelude alla messa ufficiata da Monsignor Pacini. Dopo la funzione si terrà il cerimoniale civile prima di un momento musicale con la filarmonica Giacomo Puccini di Camaiore e l'esibizione del coro Versilia di Capezzano Monte. A fine serata è in programma uno spettacolo pirotecnico e il taglio del nastro della mostra degli elaborati e prodotti dagli studenti per il concorso La cultura dell'incontro e dell'accoglienza Conoscere per amare Amare per conoscere le cui premiazioni si terranno la mattina del 25. A Viareggio due saranno i momenti istituzionali del 25 aprile il primo a largo risorgimento e il secondo a Torre del Lago con la deposizione di corone di fiore nei luoghi simbolo della resistenza. A Sant'Anna di Stazzema le celebrazioni del 25 aprile prenderanno il via alle 15 alla presenza di tutti i gonfaloni dei comuni versilesi e dei sindaci. L'oratore ufficiale della cerimonia è il Vice Ministro Riccardo Nencini che presenzierà anche alla inaugurazione della nuova lapide in marmo che ricorda i morti dell'Eccidio del 12 agosto 1944. E l'amministrazione di Pietrasanta celebrerà questo 71esimo anniversario della fine della seconda guerra mondiale e dell'occupazione tedesca con una serie di iniziative solenni in programma lunedì 25. La prima delle tre si terrà appunto con la deposizione di una corona al monumento ai caduti in piazza dello statuto poi una seconda al monumento al soldato alleato situato in via sul viale acqua ed una terza che dal monumento della linea gotica a Strettoia tributo alle 175 vittime civili che dal 44 al 45 persero la vita durante la permanenza al fronte. Sarà il sindaco Mallegni insieme agli assessori a deporre le corone. e poi ancora feste a Viareggio feste e celebrazioni a Viareggio due momenti importanti per la celebrazione del 25 aprile il primo a largo risorgimento con la consegna della corona di fiori e poi il secondo a Torre del Lago. Ed ora invece andiamo a Villa Bertelli dove si è concluso proprio ieri un vertice dei comuni del turismo di eccellenza. L'incontro tra i sindici della Costa Smeralda Arzachena di Curmaier Portofino Forte Remarmi e Capri sulla necessità di mantenere migliorare e diffondere la qualità dell'offerta turistica. Promotore dell'iniziativa è stato il sindaco di Forte Remarmi Buratti che ha invitato i colleghi a interfacciarsi sulle normative disciplinanti la vita amministrativa dei comuni che vivono realtà particolare in quanto rappresentano nello scenario non soltanto nazionale luoghi capaci con politiche vincenti e costumi nel tempo di avere una posizione di livello mondiale nell'accoglienza turistica salvaguardando il proprio genius loci. Abbiamo esigenze specifiche ha sottolineato Buratti nel suo intervento dalle quali non possiamo prescindere per salvaguardare la qualità del nostro turismo. Siamo piccole realtà ha aggiunto Paragonaboli tuttavia ad alberghi a 5 stelle che devono offrire servizi adeguati per questo serve più collaborazione fra il pubblico e il privato abbiamo la necessità ha detto ancora di liberare risorse da destinare sempre all'ottimizzazione dei servizi cito questo a concluso Buratti per la maggiore fronte di entrata l'Imu che nel caso di Forte Marmi raggiunge i 16 milioni di euro un'entrata pazzesca questa e il 60% della quale proviene dalle seconde case ma il 50% di questi 16 milioni di euro va allo Stato per il fondo di solidarietà degli altri comuni ed ora invece andiamo in Versiliana dove sono iniziati i lavori per ripristinare il massimo del decoro nel parco straordinario che è meta di turisti di grandi spettacoli Lavori e polemiche in corso in Versiliana in questi giorni si è conclusa la prima serie di azioni promosse dall'amministrazione comunale di Pietrasanta per migliorare il decoro l'immagine e l'accoglienza del polmone verde della città in vista dell'estate coinvolte le maestranze comunali le cooperative ed Ersu che in due giorni hanno eseguito numerosi interventi di riqualificazione pulizia che hanno spaziato da ripristino della segnaletica e delle staccionate alla sistemazione delle panchine dei cestini in parte sostituiti e in parte aggiustati in economi fino alla rimozione dei rifiuti abbandonati alla potatura degli alberi sporgenti alla rimozione di alcune ciocche c'è stata anche la nuova staccionata di delimitazione realizzata nel ponticello pedonale del parco nei pressi dell'area picnic nel retro del teatro della Versiliana procede anche il progetto di riqualificazione dell'area verde del ponte del principe devastata dalla tempesta del 5 marzo di un anno fa intanto però è polemica sull'utilizzo dell'acqua del fosso fiumetto per irrigare il prato appena sorto si gettano i batteri e gli scarichi delle ville sul giardino dei picnic attaccano le opposizioni ma per il momento sembra l'unico modo per garantire erba verde e non gialla resta aperto anche il dibattito sulla ripiantumazione dell'area la sovrintendenza avrebbe dato l'ok alle nuove alberature dopo l'abbattimento massiccio dovuto al vento ma per un effettivo via libera alla riforestazione si dovrà attendere perlomeno l'autunno La cronaca un 44enne marocchino è stato arrestato dalla polizia di Viereggio per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e in osservanza al foglio di via del questore il magherino è stato bloccato a Viereggio proveniente da Pisa a bordo di una vettura carica di droga con lo scopo di consegnarla ai rivenditori sottoposto al controllo gli hanno trovato 136 grammi di droga immediatamente sequestrata oltre ad essere gravato da numerosi pregiudizi per detenzione spaccio di stupefacenti è stato anche accertato che questo estracomunitario era stato allontanato con foglio di via obbligatorio e di vieto di fare ritorno nel comune di Viereggio è stato pertanto arrestato e presentato dinanzi al tribunale di Lucca il 21 aprile scorso l'arresto è stato convolidato in attesa di processo però è stato messo nella condizione di non poter più raggiungere Viereggio e stamattina nella sala Belvedere della fondazione del Festival Puccini si è svolta la cerimonia di premiazione delle otto classi che hanno partecipato alla sesta edizione del premio scolastico Mussi, Femiano e Lombardi dal titolo credo scusa Memoria e Legalità importanti e gratificanti i premi o meglio i messaggi ricevuti da Giovanni Battista Crisci ideatore e promotore di questa iniziativa dal Presidente della Repubblica Mattarella dall'ex Presidente Napolitano dal Presidente del Senato Grasso da Renzi Presidente del Consiglio dal Sottosegretario agli interni Manzione dal Capo della Polizia Panza e dal Prefetto di Russa Cagliostra il Comitato Organizzatore del Premio ha constatato che anche questa sesta edizione è stata possibile grazie all'impegno degli alunni dei docenti e dei dirigenti scolastici che hanno aderito all'iniziativa e partecipato con serietà al Premio Letterario il Comitato ringrazia tutti non perché la partecipazione è un riconoscimento alla storia dell'episodio avvenuto nel 1975 in una casa di campagna a Querceta con l'uccisione dei tre militari Mussi Femiani e Lombardi ma soprattutto perché rielaborare quel vissuto con passione che gli studenti hanno saputo dimostrare comporta un significativo riconoscimento alla costruzione di un futuro migliore attraverso la memoria la sedicesima edizione del concorso nazionale chiedo scusa la sedicesima edizione del concorso nazionale sono io che ho sbagliato chiedo scusa sedicesima edizione del concorso nazionale di pianoforte Bramanti organizzato dall'omonima associazione di Forte le Marmi in ricordo del giovane Marco prematuramente scomparso in un incidente 31 anni fa l'appuntamento con la cerimonia di premiazione è per lunedì 25 aprile a Villa Bertelli dove si svolgerà la proclamazione dei vincitori e il concerto pubblico dei finalisti ed ora invece occupiamoci di calcio perché sia il Viareggio che il Ghiviborgo che si sono scontrati recentemente hanno tanta voglia di riscatto dopo le ultime deludenti prestazioni vediamo visto il derby davvero scialbo di sette giorni fa Alpini a Viareggio e Ghiviborgo non resta che giocare meglio solo così le nostre due rappresentanti nel campionato di Serie D potranno perseguire i loro rispettivi obiettivi a tre giornate dalla fine che per i bianconeri di mister Pierini si chiama salvezza diretta evitando così spiacevoli e complicate code di spareggi post season in realtà le zebre mancano solo due punticini per mettersi a riparo da qualsivoglia sorpresa magari da conquistare già domenica sul campo della San Giovannese che ormai ha ben poco da chiedere a questa stagione in casa a Viareggio si profilano due importanti novità quei rientri di Rosa Castaldo a centrocampo che prenderà il posto di Gorelli e di Rosati in attacco in questo caso lascerà il posto all'ex Camaiorese uno tra Rossetti Sciapi o Benedetti dando uno sguardo alla classifica se ne puoi vincere che a 270 minuti dalla fine meritato ritorno in Lega Pro e che il Givi Borgo può davvero accarezzare il sogno di giocare playoff certo che la squadra del Pacio Fanani deve tornare ad incamerare punti e magari anche qualche vittoria altrimenti si fa dura nel suo infinito peregrinare il Givi Borgo stavolta è di scena al Mariotti di Montecatini Terme sfida difficile per Angeli e compagni contro un jolly Montemurlo che a sua volta può ancora sperare nel quinto posto un confronto diretto che i bianco-rosso-azzurri affronteranno con lo schieramento tipo e l'unica assenza forzata di Barretta squalificato il Givi Borgo non vince da quasi due mesi ed un successo avrebbe un valore enorme per la classifica e per il morale di tutta la squadra Ebbene è tutto per questa edizione serale del nostro telegiornale restate con noi per gli aggiornamenti